Mercato concluso e vacanze terminate per l'Alfa Basket Catania. È già tempo di tornare in campo per cominciare l'avvicinamento alla prossima stagione di Serie B. Il raduno della compagine etnea che nella scorsa stagione ha dominato la Serie C siciliana comincerà oggi alla palestra Leonardo da Vinci, agli ordini del confermatissimo coach Andrea Bianca. Cinque volti nuovi nelle fila alfiste, Provenzani, Gatti, Vita, Sadi, Savoca e Longo che affiancheranno i confermati Abramo, Agosta, Gottini, Console e Florio. Esordio stagionale in campionato previsto per il 7 ottobre sul campo della costa d'Orlando.